Aum Mahoum con Ciro e il suo staff, eccoli nell'organizzazione del Capodanno. Allora amici di Dendei, ho qui il piacere di ritrovarmi all'Aum Mahoum insieme a Miki Milone, buonasera. Allora aspetta, prima che iniziamo l'intervista io la guardavo, c'era un marone. Aspetta, posso fare una cosa? Segretaria sexy, sai quelle cose? Era un bel po' che non ci vedevamo, però ogni volta che ci torno trovo sempre qui una bellissima atmosfera, il vostro sorriso è veramente veramente bello. D'altronde quello è ovvio, cioè tu devi offrire alle persone due o tre cose, si deve mangiare bene, ci deve essere bella musica, l'ambiente è buono, però essenzialmente devi offrire il sorriso. Adesso siamo in tema natalizio, che succede qua, che succederà? Noi abbiamo una programmazione che parte da questo sabato e secondo me termina il 6 gennaio. Come del resto qua, com'è il vostro motto? Ricordiamola, l'Aum Mahoum, c'è Natale, che quest'anno capirà il 25 ed è una bellissima serata Natale, musica al vino discoteca, solito, classico dell'Aum Mahoum. Qua abbiamo il 26 che capita di venerdì, i nostri venerdì sono fortissimi, venerdì abbiamo una piccola chicca, c'è un amico che si chiama Roberto, Roberto Bottone che suona a Kiss Kiss Italia e fa musica italiana biscelata, ballabile. Quindi insieme a Mario da Costa, live show, il solo, ci sono anche Roberto a Kiss Kiss Italia, mi piace come cosa. Ma quel pizzico in più voglio dire. Ma offriamo sempre qualcosa di diverso, il 27, musica al video discoteca con Frenkie, Le Angelis e quant'altro, stasera c'è Gianni Marigliano però ormai è passata, poi entriamo in Capodanno, quindi 31 dicembre c'è NONE, ONON, AROVAI, viene la Aum Mahoum. Adesso qui lo vediamo col cravattino ma quando si mette in console e poi fa la sua piccola. Capodanno è già quasi pieno, quindi chiamateci 089 44 5001, 089 44 5001 Aum Mahoum, vi vogliamo bene. E il Natale non poteva che essere anticipato così alla Aum Mahoum, con Gianni Marigliano buonasera. Buonasera, buon Natale a tutti. Come lo festeggia Gianni Marigliano il Natale? Dove ti possiamo trovare, dove fa? Ecco l'applauso. Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni, Michi, vieni, vieni. Il nostro direttore artistico. Ecco, parlavamo di Natale anche con Gianni, siamo curiosi di sapere, hai fatto i regali. Eh beh, quello per forza, il mio albero è già pieno. Una bellissima tradizione a casa mia, ho la fortuna di avere una casa abbastanza grande, nel centro di Napoli e tutta la famiglia, vengono tutti quanti da me. Poi ho mio figlio in particolare, mio figlio Luca, spero mi possa vedere la settimana prossima in televisione. Mio figlio Luca è qualcosa di incredibile, per lui il Natale bisogna stare tutti quanti insieme. Il calore della famiglia ci si ritrova in particolare a Natale. Saluto a mamma, alle mie sorelle e al mio nipotino che è troppo bello, non l'ho mai fatto. Non voglio parlare di questo binomio che praticamente qui è... Non ha preso, il nipote è bello perché non somiglia a lui. Parliamo degli auguri a Laura che compie gli anni, compie 21 anni. No, 18 più quelli che sono passati. Tanti auguri di buon Natale e un Natale di serenità prima di tutto. Mi auguro che sia un 2009 carico di soddisfazione e di prosperità per tutti. Ciao Annabella, se non ci vediamo, buon Natale anche a te. Ciao Annabella, ciao sabato, auguri. Buonasera agli amici in attenzione. Ancora una volta l'Umoum si conferma uno dei migliori locali che abbiamo nella nostra zona. Tanta bella gente, grazie anche a Gianni Mariano stasera che già sta facendo scatenare tutti. Consigli per gli acquisti. Sono tanti anni che è facile andare su, però il difficile è rimanerci. Quella della progettiva dell'Umoum vuol dire che c'è una fattibilità di base. Noi lavoriamo per un progetto, abbiamo progettualità e questa è una cosa importante. L'Umoum è sinonimo di garanzia perché nel tempo ha confermato, come ti dicevo, per tanto tempo, per tanti anni. Facciamo gli auguri di Natale, di buon anno, anche se non ci vediamo, ci vediamo al prossimo anno. L'importante è vederci perché vuol dire che stiamo bene per una cosa. Noi siamo aperti il 25, il 26, il 27 e il 31 facciamo il cenone e ci sotteniamo questo piccolo particolare. Lo dico il prezzo, è 50 euro, voglio dire si mancia bene, è una sera di festa. Il 25 noi a Natale, ogni tavola che ci prendiamo, offriamo una bottiglia di prosecco per festeggiare insieme. Venite alla Umo Umo perché il divertimento è assicurato, vi aspettiamo, non mancate che ve ne pentirete. Un bacio. Tanti auguri.